subito in auto auguri di natale ciac si gira buonasera sono Pagnone che lo fa qui stiamo facendo le prove per il natale allora guarda oggi abbiamo incartato questa macchina si la promuoviamo bellissima facciamo un super sconto e poi se uno vuole anche finanziare dobbiamo capacità di fare un tasso particolare ma ma chi c'è l'ha il finanziario ecco abbiamo anche il nostro consulente finanziario venga venga cosa ci può dire per finanziare questa macchina posso dire che abbiamo dei tassi promozionali per il mese di dicembre particolarmente vantaggiosi per clientela evoluta che volesse approfittare di questa iniziativa che però a scadenza purtroppo solamente al 31 12 prego lascio la parola venditore grazie devo spiegare questa macchina devo illustrare perché anche se è impacchettata però dai si vede che bella per primo volevo fare gli auguri di natale da subito in alto bene grazie questa macchina dobbiamo andare a quest'altra parte paolo perché non si apre è una vettura trattamente sportiva è una mini kart ma è 1.6 48 motrici col cambio automatico e l'interno in pelle navigatore è una vettura molto prestazionale una vettura preparata internamente la puoi vedere molto curata è una macchina che diamo questo questo mese da 25 5 la vendiamo 23 mila e 500 euro abbiamo una tabella particolare data da deutschbank con inclusi tutti i servizi e la vettura è garantita 24 mesi inoltre le nostre produzioni sostendo anche su tutte le macchine che vede qui dentro possiamo fare la carrellata abbiamo delle macchine particolari dalla tt a x1 la serie 1 la bmw dacia duster sb tutte le macchine sono garantite 12 mesi tutte finanziabili abbiamo macchina che per noi sono patentati bene e poi vi aspettiamo sabato e domenica siamo sempre aperti 6 dicembre 6 dicembre grazie grazie a lei